I cantieri per la realizzazione del parco fluviale lungo il Bisenzio sono fermi da troppo tempo. La segnalazione arriva da una nostra telespettatrice, Cristina Berti, attraverso il form Cittadino Cronista sul sito di Toscana TV. Da noi contattato, l'assessore ai lavori pubblici Valerio Barberis ha confermato lo stop legato a un cambio di ditta appaltatrice per problemi burocratici, ma ha anche annunciato il lieto fine. Siamo arrivati alla fine di un procedimento molto lungo che prevede di valutare tutti i lavori fatti, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto. La valutazione di tutto questo da un punto di vista tecnico e poi dopo tutte le procedure per la riassegnazione. Come è noto siamo in Italia, ci sono delle regole molto complesse. Oggi, stamattina, vi sono proprio informato, siamo arrivati alla stesura definitiva dell'atto e quindi a questo punto la nuova ditta potrà lavorare da giovedì, venerdì della prossima settimana. Chiaramente i primi lavori che verranno fatti saranno quelli di un ripristino del cantiere, quindi lo sfalcio dell'erba che nel frattempo si è formata e poi dopo partiranno con i lavori. Quando vedremo il termine di tutto? Il termine di tutto ha una durata, i lavori sono molto consistenti, questo è l'appalto che sta alla base per poi collocare i container. Quindi ci sono due appalti in corso in questo momento su questo tema. La ditta che farà questi lavori si occupa della realizzazione delle piazzole, di tutta la parte sotterranea, quindi gli impianti, eccetera. La ditta invece che sta lavorando per la realizzazione dei container sta continuando e li sta realizzando, quindi da settembre inizieremo a vederli. Chi desidera inviarci segnalazioni può collegarsi al sito www.toscana.tv.it e scriverci attraverso la sezione contatti.